Il progetto FLOWERED è un progetto finanziato nell'ambito del programma Horizon 2020, quindi sarà un progetto di ricerca che durerà tre anni, 14 partner provenienti dalla sponda europea e dalla sponda africana, in quanto noi come obiettivo vogliamo affrontare la problematica legata alla presenza di fluoro nelle acque sotterranee. Il fluoro nelle acque sotterranee comporta, se in proporzioni elevate, quindi in concentrazioni elevate, comporta dei problemi molto seri alla salute, fino ad arrivare anche a forme di pazia. Il fluoro è presente nelle acque sotterranee di determinate regioni lungo la Reef Valley, quindi nella parte est africana, a causa di scambi di minerali presenti in determinati tipi di rocce. Quindi il nostro progetto vuole affrontare questo problema, cercare di risolverlo in che modo, applicando tecnologie adattabili alle contesti sociali ed economici di quelle località, e trovare delle forme di purificazione di questo elemento attraverso dei filtri che possano essere utilizzati nei villaggi. Quindi semplici tecnologie, ma tecnologie avanzate. E se noi pensiamo che l'acqua, oltre ad essere assunta per usi umani, viene anche utilizzata nell'ambito dell'agricoltura, quindi per l'irrigazione dei campi, oppure per dare da bere agli animali, il fluoro entra nel ciclo alimentare e quindi noi con un altro gruppo di partecipanti al progetto affronteremo questo problema. In che modo? Anche in questo caso dovremo trovare delle soluzioni adattabili al contesto ambientale che abbattano il contenuto in fluoro. È evidente che questo percorso porterà anche particolare attenzione alla formazione delle future generazioni, quindi coinvolgimento di studenti nell'ambito, per esempio, di tesi di laurea, di programmi di PhD. Questo perché? Perché è importante il trasferimento delle conoscenze per le future generazioni.